Buonasera, fra pochissimo saremo in onda con il telegiornale di questo sabato che ha notizie molto importanti, soprattutto notizie internazionali. La prima con cui apriremo il telegiornale è quello dell'attacco contro il porto dove si trovano navi russe di Sebastopol in Crimea. Ci sono stati i droni che hanno colpito almeno quattro navi della flotta russa, con Mosca che a questo punto accusa gli inglesi di aver collaborato attivamente con gli ucraini per questo nuovo attacco. Naturalmente Londra nega perché questo significherebbe che le forze armate di un paese della Nato collaborerebbero attivamente sul campo insieme agli ucraini. Per rappresaglia Mosca non solo sta colpendo di nuovo numerosi obiettivi civili, ma anche le infrastrutture che portano l'elettricità dell'Ucraina, ma ha deciso di sospendere quell'accordo sul grano che consentiva il trasporto dei cereali fuori dal Mar Nero, fuori dalla Russia, ma anche dall'Ucraina. Un accordo internazionale. Ci sono già le proteste delle Nazioni Unite. Ma poi c'è una notizia che si sta sviluppando, ancora sviluppando in questi minuti, e possiamo vedere le immagini che arrivano in diretta da Seoul, che non rendono l'idea di quello che è successo. C'era una grande folla, 100.000 persone, i fatti ancora non sono chiari, ma nella calca, e forse anche dentro il locale che state vedendo e quello sullo sfondo, c'è stata ressa le persone travolte e ci sarebbero addirittura, i bilanci sono ancora provvisori naturalmente, una sessantina di vittime e 150 feriti con i soccorsi, lo vedremo nel servizio, torniamo pure in studio, lo vedremo nel servizio, con i soccorsi che sono avvenuti direttamente in strada, perché c'erano molte persone in arresto cardiaco. Immagini drammatiche. Poi, naturalmente, parleremo del governo, delle iniziative che intende prendere, riguardano il Covid, ma anche la giustizia, con una decisione sull'ergastolo stativo e un'altra per la sospensione di alcune norme della riforma cartabia, che arriveranno, che saranno varate tutte nella prima riunione veramente operativa dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, lunedì, quindi dopo domani. A proposito di Covid, ci sono le proteste, naturalmente, dei medici, perché dicono non è ancora il momento di levare le mascherine, e poi polemiche di altro tipo. Molte altre notizie di cronaca italiana, di politica e anche internazionali, ma le vedremo tutte fra pochi istanti, un minuto appena, nei nostri titoli. Vi aspetto. La Russia annuncia di aver sospeso l'accordo sul grano in seguito agli attacchi di oggi al porto di Sebastopoli, in Crimea, dove sono state colpite quattro navi da guerra della flotta del Mar Nero. Il Cremlino parla di un atto terroristico compiuto dal regime ucraino con la partecipazione di esperti britannici. Londra respinge ogni irresponsabilità e per Kiev si tratta di un falso pretesto. Non c'è solo l'economia nelle prime mosse del governo Meloni. Lunedì consiglio dei ministri e si lavora un decreto legge per mantenere il cosiddetto ergastolo ostativo. Il rinvio al 30 dicembre dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma cartabia e l'anticipo al primo novembre della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria. E a proposito di Covid, è in arrivo la sospensione fino al 30 giugno del prossimo anno delle multe agli over 50 che non erano stati vaccinati. Il Ministero dell'Economia ha inviato in Parlamento la proposta di emendamento al decreto aiutiter in esame alla Camera. Dai medici ospedalieri intanto arriva l'allerta a non abolire l'uso delle mascherine negli ospedali. L'epidemia non è finita, dicono, anche se la pressione ospedaliera in questo momento è sotto controllo. Ci sono almeno 59 morti e 150 feriti a Seul. Nel corso di una festa di Halloween decine di persone sono finite in arresto cardiaco per la calca creatasi nell'area dove una folla di forse 100.000 persone festeggiava il primo evento all'aperto senza mascherine dopo la pandemia. 140 ambulanze sono state inviate sul posto per prestare soccorso con i medici obbligati a intervenire per strada. Il capo dei Pasdaran a Teheran ha intimato ai manifestanti di fermarsi e accusa Stati Uniti, Gran Bretagna, Arabia Saudita di alimentare le proteste che in Iran dopo la morte di Masha Amini vanno avanti da sette settimane. Arrestate due reporter iraniane accusate di essere spie degli Stati Uniti. Washington intanto chiederà una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulla repressione delle proteste. Di nuovo buonasera, allora un altro duro colpo per Mosca. Ancora una volta le navi, ancora una volta nel Mar Nero. A colpire sono stati i droni ucraini e forse anche delle armi subacquee che sono andate a colpire almeno quattro navi da guerra di Mosca ricoverate nel porto di Sebastopoli, il principale della Crimea, la regione dove tutto iniziò, quel contrasto appunto che pone Kiev contro Mosca. Ebbene è durissima la risposta che è arrivata dal Cremlino con la decisione di sospendere quell'accordo sul grano, importantissimo che consente le esportazioni sia dalla Russia che dall'Ucraina. Cominciamo da qui. È un colpo durissimo per la flotta russa nel Mar Nero, il più grave attacco dal clamoroso affondamento dell'incrociatore Moskva. Almeno quattro, secondo Kiev, le navi coinvolte in quella che sembrerebbe un'azione compiuta con droni e mezzi subacquei telecomandati nel porto di Sebastopoli, nella Crimea, annessa illegalmente da Mosca nel 2014 e di cui Kiev chiede da allora la restituzione. Tutto avviene nelle primissime ore del mattino e l'agenzia russa TASS a dare per prima la notizia di una potente esplosione all'alba nella Baia di Sebastopoli, la più grande città della Crimea. Passa qualche ora e Mosca riferisce di un massiccio attacco compiuto con i droni, opera degli ucraini, secondo il Cremlino, che questa volta però si spinge oltre e accusa la Gran Bretagna di aver aiutato, supportato l'azione terroristica pianificata da Kiev grazie a corpi militari d'elite, gli stessi, secondo Mosca, che avrebbero avuto un ruolo attivo anche nel sabotaggio un mese fa dei gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico. Un paese nato dunque accusato di sabotare infrastrutture critiche della federazione russa. Londra smentisce seccamente. Sono falsità di portata epica per sminuire la disastrosa gestione dell'invasione illegale ucraina, replica in una nota il Ministero della Difesa Britannico. Questa storia inventata dice di più sulle frizioni all'interno del governo russo. Anche Kiev respinge le accuse di Mosca, esattamente come aveva fatto per il ponte tra la Russia e la Crimea, fatto saltare tre settimane fa. Il Ministero dell'Interno addossa piuttosto la responsabilità dell'accaduto all'uso negligente di esplosivi da parte delle truppe russe a bordo di alcune navi e non solo di un dragamine, come sostiene invece Mosca, inclusa la fregata Admiral Makarov, dalla quale a luglio erano stati lanciati missili da crociera contro alcune città ucraine, causando decine di morti tra i civili. Come il ponte, questo è un altro duro colpo d'immagine per Putin che reagisce immediatamente con la sospensione da oggi a tempo indeterminato dell'accordo firmato lo scorso 22 luglio sotto legida dell'ONU e con la mediazione della Turchia per il trasporto di decine di milioni di tonnellate di grano bloccato nei porti ucraini e diretto principalmente nei paesi africani. Motivo? Non possiamo più garantire, dice Mosca, la sicurezza della navigazione. L'ONU ha subito lanciato un appello a Putin chiedendo uno sforzo umanitario da cui dipende la sopravvivenza di milioni di persone nei paesi più poveri del mondo. Allora avete sentito la mediazione turca, il presidente turco proprio Erdogan ha già chiesto a un colloquio a Putin su questa vicenda ma pochi istanti fa il portavoce del Cremlino, Pieskov, ha detto che non è stato ancora fissato alcun colloquio telefonico fra i due presidenti. Come ha reagito Mosca oltre alla decisione sul grano? Intanto con il lancio di missili e droni che hanno colpito ancora una volta gli obiettivi ucraini ma l'avanzata delle forze di Kiev è molto forte nel sud del paese. Cala la notte in Ucraina ed immediatamente suona di nuovo l'allarme aereo per l'intero paese. La giornata che si è chiusa è stata sanguinosa cominciata con la cittadina di Nikopol in fiamme dopo essere stata martellata per diverse ore. A finire nel mirino russo, condomini abitati, negozi ma soprattutto come da tempo accade le reti elettriche. La situazione energetica dell'Ucraina diviene ogni giorno più preoccupante. La Naftogas è stata costretta per motivi di sicurezza ad interrompere le forniture nell'area di Kiev. Nikopol in particolare è di fronte alla centrale nucleare di Zaporizia dove per la seconda volta in pochi giorni gli ucraini hanno tentato lo sbarco per riprenderne il controllo. L'azione secondo i russi è stata respinta. Kiev rivendica comunque il controllo di una strategica autostrada nell'oblask di Lugansk e nella battaglia per Kherson annuncia di avere ucciso il vice capo di stato maggiore della Wagner. Lo scrive il Kiev Independent che non fornisce un nome ma le forze speciali ucraine si sarebbero trovate a confrontarsi con un'unità dei mercenari russi che sarebbe stata eliminata. Secondo il capo dell'intelligence ucraina Kirillov Budanov le migliori unità russa sono attualmente a Kherson. Si parla di circa 40.000 soldati di gruppi d'elitto oltre agli uomini della Wagner e dai ceceni di Kadirov tutta schierata a difesa della riva destra del fiume di Dnipro per un'operazione spiega sempre Budanov che potrebbe durare tutto il mese di novembre. Tuttavia nonostante un simile dispiegamento di uomini in base all'ultimo aggiornamento dell'intelligence militare britannica ci sono buoni motivi per credere che la città verrà presto abbandonata. 70.000 persone hanno già lasciato l'area nelle ultime ore i russi hanno anche rimosso i resti del principe Potionki lo statista fortemente associato alla conquista delle terre ucraine nel XVIII secolo e sempre a Kherson, secondo il presidente Zelensky le forze di Mosca avrebbero saccheggiato le attrezzature mediche e le ambulanze per rendere la città invivibile e i civili rimasti intrappolati e dalle forze ucraine in entrata chi affornisce anche un numero terribile quello dei bambini morti dall'inizio dell'ostilità sarebbero 430. Continua a salire drammaticamente il bilancio dei fatti della Corea del Sud di Seoul dove in mezzo a quella folla, alla calca della gente che festeggiava Halloween i morti sono diventati la notizia di poco fa dalle autorità proprio sudcoreane di 120 morti e un centinaio di feriti Decine di soccorritori che praticano il massaggio cardiaco a chi è a terra privo di sensi, in mezzo a una marea umana calcata nei vicoli del quartiere Itaewon di Seoul per festeggiare Halloween, il primo evento di massa senza mascherine sono immagini impressionanti quelle postate sui social da chi si trovava in questa folla 100.000 persone almeno 50 persone, per lo più ragazzi, sono andati in arresto cardiaco ma già ci sono molti morti il bilancio in continuo aggiornamento in queste ore è così come quello dei feriti la macchina dei soccorsi è imponente 142 veicoli del vigile del fuoco intervenuti le prime chiamate ricevute sono state di almeno 81 persone che lamentavano difficoltà a respirare un centro medico temporaneo è stato allestito in tutta fretta vicino alla stazione di Taiwan la maggior parte dei feriti sono stati subito portati negli ospedali della capitale sudcoreana cosa possa avere provocato questo malore collettivo ancora non è chiaro sui social rimbalzano i messaggi di tenere la bocca e il naso coperti non accettare caramelle, non bere alcun tipo di drink ma potrebbe invece essere stato proprio quell'ammasso di persone così pressate e strette tra loro a schiacciare nella calca le vittime il presidente sudcoreano Yeon Suk Yeol ha chiesto ai funzionari di assicurare un trattamento rapido per i feriti e di rivedere la sicurezza dei luoghi della festa sollecitando il ministero della salute a schierare le squadre specializzate in assistenza medica in caso di calamità e di predisporre negli ospedali tutti i letti, macchinari, medicine e farmaci per fornire cure ai feriti e purtroppo temiamo che visti i numeri le cifre di questa tragedia potrebbero diventare ancora più impressionanti veniamo all'Italia con le iniziative del governo che ha fissato per lunedì la prima riunione il primo consiglio dei ministri davvero operativo ieri erano uscite anticipazioni su come le risorse a disposizione saranno dislocate nella nuova manovra tre quarti saranno dedicate all'aiuto a famiglie e imprese per i costi dell'energia oggi un altro annuncio lunedì arriveranno diversi provvedimenti importanti riguardano il covid ma soprattutto la giustizia segnare il cambio di passo sulla gestione del covid ma anche sul fronte giustizia il premier Meloni che oggi ha deposto una corona da loro sulla tomba del milite ignoto simbolo per eccellenza dei valori della patria sceglie di caratterizzare così il primo consiglio dei ministri operativo fissato per lunedì 31 ottobre all'ordine del giorno figura infatti l'anticipo al primo novembre della scadenza dell'obbligo vaccinale per chi esercita la professione sanitaria e l'abrogazione delle sanzioni per chi non ha rispettato l'obbligo potranno tornare in corsia insomma i medici Novax un deciso cambio di passo che sconfessa la linea seguita finora ma c'è anche il fronte giustizia e il governo varerà un decreto legge per mantenere l'ergastolo stativo urgenza dettata dal fatto che su questo argomento si riunirà la corte costituzionale l'8 novembre una corsa contro il tempo fa filtrare Palazzo Chigi per sminare un'eventuale sentenza impedire che ai detenuti mafiosi possano aprirsi le porte del carcere l'accesso ai benefici penitenziari sarà infatti limitato solo ai condannati che collaborano previsto poi il rinvio al 30 dicembre dell'entrata in vigore di alcune disposizioni della riforma cartabia sul processo penale per le difficoltà con l'allarme degli addetti ai lavori degli uffici giudiziari nel rispettare i tempi processuali fissati dalla riforma tempo supplementare per permettere la riorganizzazione rispettando però le scadenze del PNRR e la linea soddisfatto Salvini che sottolinea la discontinuità proprio lui che in queste ore non perde occasione per rissare bandierine identitarie che rischiano di mettere in difficoltà l'esecutivo soprattutto sui temi economici dove le richieste della Lega vede i pensioni visto che senza interventi il primo gennaio rientrerebbe in vigore la legge Fornero e tasse mal si conciliano con i cordoni strettissimi della borsa visto che il grosso delle risorse della legge di bilancio si parla dei due terzi dei fondi a disposizione sarà drenato dal caro Bollette e il dato sull'inflazione quasi al 12% zavorra ulteriormente il quadro ma per far quadrare i conti si guarda anche a Bruxelles mercoledì Meloni farà lì la sua prima trasferta per incontrare i vertici europei prezzo del gas e inflazione record tra i temi dei colloqui Allora giustizia, Covid l'abbiamo sentito e Covid anche con le altre decisioni già prese che riguardano la sospensione del bollettino quotidiano che diventerà settimanale e il perdono diciamo così dei sanitari che non si sono vaccinati ma ci sono le proteste da parte di altri sanitari per la possibile imminente decisione sulle mascherine Sospensione fino a giugno 2023 delle sanzioni contro gli over 50 che non hanno completato il ciclo vaccinale obbligatorio e la proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze da inserire in fase di conversione del decreto legge aiuti TER in esame alla Camera ma è anche un nuovo segnale dell'inversione di marcia messa in atto dal nuovo esecutivo in tema di pandemia fa seguito agli annunci delle ore precedenti arrivati dal Ministero della Salute con una nota il di Castero presieduto dal nuovo Ministro Orazio Schillacci aveva reso pubblica l'intenzione di abolire il bollettino quotidiano della pandemia per passare alla pubblicazione dei dati con cadenza settimanale e l'anticipo della scadenza dell'obbligo vaccinale perché esercita la professione sanitaria sull'annunciata discontinuità con il precedente esecutivo nella gestione della pandemia si sono espressi oggi medici scesi in piazza a Roma per manifestare contro Italia la sanità per il Presidente dell'Ordine dei Medici Filippo Anelli è giusto mandare un messaggio di ritorno alla normalità ma questo non dovrà voler dire che ognuno potrà fare come gli pare in particolare sull'ipotesi di cancellare l'obbligo della mascherina nelle strutture sanitarie a partire dal primo novembre Anelli afferma che sarà sempre fortemente raccomandata soprattutto in presenza di pazienti fragili secondo Anelli inoltre i dirigenti delle singole ASL anche in mancanza di una legge nazionale potranno adottare provvedimenti autonomi caso per caso soprattutto negli ambienti più a rischio come ad esempio nelle RSA o nei reparti oncologici la manifestazione organizzata dalle tre principali sigle sindacali CGL, CISL e UIL ha preso di mira le scelte dei precedenti governi e i tagli degli ultimi dieci anni alla sanità pubblica che ha spiegato il leader CISL, Luigi Sbarra hanno prodotto una carenza di circa 70.000 infermieri e 18.000 medici da parte sua il leader della CGL Maurizio Landini ha chiesto il rinnovo dei contratti nazionali per adeguare salari ormai troppo bassi per ridurre una precarietà troppo alta e poi ci sono le opposizioni il Partito Democratico nella direzione di ieri ha avviato quel percorso che porterà una nuova guida del partito visto che Letta ha annunciato le sue dimissioni per alcuni però diciamo questo percorso che si concluderà fra diversi mesi a marzo è troppo lungo per altri e addirittura troppo breve comincia per noi una traversata nel deserto Enrico Letta Basilea per il congresso del Partito Socialista Svizzero descrive così il periodo che il suo partito deve affrontare abbiamo ottenuto un risultato elettorale che non era quello che speravamo e ora ci troviamo in uno spazio di opposizione di qui la metafora della traversata nel deserto che il segretario spera il più breve possibile grazie all'azione di opposizione del PD ma una traversata piena di incognite a partire da chi guiderà il principale partito di opposizione ieri la direzione del PD ha fissato la roadmap del congresso le primarie per eleggere il nuovo segretario si terranno il 12 marzo tappa finale di un percorso che inizierà il 7 novembre con l'appello alla partecipazione il 28 gennaio scadrà il termine per la presentazione delle candidature il 26 febbraio la conta tra gli iscritti per decidere quali saranno i due aspiranti leader che si affronteranno poi nel voto dei gazebo aperto anche ai non iscritti in campo ufficialmente al momento c'è solo l'ex ministro Paola De Micheli con il sindaco di Pesano Matteo Ricci pronto a candidarsi sullo sfondo ci sono il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Firenze Dario Nardella nel tragitto che porterà il nuovo segretario troppo lungo per alcuni troppo breve per altri quello attuale dovrà cercare una qualche forma di intesa con le altre opposizioni per provare a mettere in difficoltà il governo impresa non certo facile visto che secondo Letta il Movimento 5 Stelle vuole fare il cavaliere solitario mentre il terzo polo punta ad essere la stampella della maggioranza accusa rilanciata oggi da Francesco Boccia Renzi e Calenda devono decidere se sono un'opposizione che fa opposizione all'opposizione o se vogliono costruire un'area alternativa alla destra per me se arrivano al panettone è già un successo Boccia si tranquillizzi replica Maria Stella Gelmini il terzo polo mangerà il panettone e anche la colomba restando saldamente all'opposizione non è chiaro invece cosa succederà al partito democratico dice l'ex ministro sottolineando che a respingere sistematicamente ogni forma di coordinamento delle opposizioni c'è anche il Movimento 5 Stelle altro tema caldo in queste ore è tornato ad essere quello dei migranti sono circa 800 quelli salvati in mare dalle navi delle ONG che sono ancora in attesa di un porto sicuro alcune delle persone salvate sono in mare ormai da otto giorni e devono sbarcare in un luogo sicuro al più presto così ha scritto poco fa sui social lo staff della Ocean Viking che è una delle tre navi che insieme a Geo Barents e Humanity 1 è nel Mediterraneo in attesa del via libera del Viminale che non arriva e probabilmente non arriverà ma mentre prosegue il braccio di ferro si registrano numerosi altri sbarchi a Lampedusa nel Siracusano nel Salento e anche nel Ragusano e torniamo ad Assago a quel ipermercato che oggi ha riaperto i battenti dopo i fatti tragici di 48 ore fa il pensiero naturalmente a quei terribili minuti le serrande di un nuovo alzate tornano i clienti neanche 48 ore dopo l'accoltellamento di giovedì pomeriggio il Carrefour di Assago oggi ha riaperto con il pensiero che torna ai circa 7 minuti di follia ripresi dalle telecamere interne dell'ipermercato sono le 18.35 quando il sistema di video sorveglianza del reparto casalinghi fissa a chiaro Andrea Tombolini 46 anni barba in colta felpa maglietta bianca borsello e tuta scura vaga confuso tra le corsie quello che cerca lo trova la sua sinistra sugli scaffali ci mette qualche istante per scartare un coltello lungo 20 centimetri e poi inizia a sfogare la sua rabbia dura tutto pochi minuti i clienti in fuga panico generale urla l'uomo si dirige verso le casse accoltella 6 persone sfiera un dipendente con la mascherina prima di inciampare scivolare a terra non riesce più a rialzarsi il resto lo ha fatto la prontezza di Massimo Tarantino ex giocatore di Inter Napoli e Bologna allontana il coltello con un calcio interviene la sicurezza poi i carabinieri bloccano l'aggressore Tombolini una storia difficile incensurato emarginato e senza lavoro una vita fatta di problemi psichici autolesionismo era convinto di essere malato terminale ha deciso di colpire per invidia chi sembrava in salute il GIP lo ha interrogato oggi nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Paolo dove è piantonato arresto convalidato in flagranza e custodia cautelare nello stesso reparto ai magistrati Tombolini ha detto quando ho visto che tra i clienti c'era un giocatore del Monza ho provato invidia perché lui stava bene e dio male l'ho colpito quindi con un coltello che avevo in mano e potevo fermarmi lì invece non so cosa mi hai preso e ho cominciato a colpire anche altre persone quasi 48 ore dopo l'aggressione scavando nelle tappe del percorso medico di Tombolini si è scoperto come forse non sia stato dato carattere all'urgenza della sua patologia il 18 ottobre il padre aveva chiamato la polizia perché il figlio si era ferito in un episodio di autolesionismo il 26 ottobre il giorno prima dell'aggressione ad Assago Tombolini era andato in pronto soccorso al momento dell'accettazione aveva detto di manifestare cefalea proprio in conseguenza di quanto accaduto il 18 ma se ne andò prima di essere visitato sulla scheda interna all'ospedale sarebbe stato annotato che il paziente necessitava di una visita psichiatrica programmata tra il 7 e il 9 novembre le 5 persone ferite sono tutte fuori pericolo anche Pablo Mari calciatore del Monza operato ieri starà fermo due mesi dolore per l'unica vittima Luis Fernando Ruggeri 47 anni origini boliviane amato figlio adottivo cresciuto in Italia fiero per l'impegno nel lavoro e nell'integrazione ad Assago proclamato il lutto cittadino e ora in Iran delle proteste che continuano dopo sette settimane dalla morte della ragazza che non portava correttamente il velo gli Stati Uniti intendono chiedere una riunione straordinaria un'indagine da parte delle Nazioni Unite oggi ai manifestanti sono arrivati altri ammonimenti dai Pasdaran le guardie della rivoluzione di Teheran sono passati 40 giorni dalla morte della studentessa iraniana Masa Amini deceduta mentre era sotto la custodia della polizia morale con l'accusa di non indossare correttamente il velo 40 giorni e non si placano le proteste in tutto il paese brutalmente represse dalle autorità in ogni città i giovani scendono in piazza spesso accanto agli operai in una protesta che prescinde dalla classe sociale e dalla religione Isfa Shiraz Amol Teheran sono alcune delle località dove le donne affrontano con i capelli sciolti i squadroni della polizia morale che spesso si muove a bordo di motociclette nelle ultime ore sono state arrestate due giornaliste iraniane Niloufar Hamed e Elae Mohamadi tra le prime a seguire la vicenda della morte di Masa Amini sono accusate di essere agenti addestrati dagli Stati Uniti che per iniziativa del presidente Biden solleveranno la questione delle proteste iraniane al Consiglio di Sicurezza dell'ONU la prossima settimana affinché siano avviate indagini credibili e indipendenti l'Iran è in queste settimane sotto gli occhi del mondo e si moltiplicano l'iniziativa a sostegno dei manifestanti la banda britannica Coldplay ieri durante un concerto a Buenos Aires ha fatto cantare l'attrice iraniana Shervin Hajipur un brano il suo diventato l'inno di protesta nelle manifestazioni di queste settimane il leader delle guardie rivoluzionare il generale Hossein Salami ha invitato quelli che ha definito giovani ingannati dal nemico a porre fine alla rivolte non dovete scendere più in piazza ha detto incolpando la famiglia reale saudita la nazione sunnita storicamente nemico dell'Iran shiita state attenti ha detto voi che provocate persone seminate sedizioni mostrando immagini pensate a cosa potrebbe succedervi Salami è intervenuto durante i funerali delle vittime dell'attacco di Shiraz perpetrato nel mausoleo di Shacharag il principale santuario musulmano shiita nel sud dell'Iran attacco rivendicato dallo Stato Islamico che ha causato la morte di almeno 15 persone sono due gli anticipi già giocati della dodicesima giornata di campionato il Napoli sempre più travolgente ha sconfitto 4 a 0 il Sassuolo e consolida il primo posto in classifica tripletta di Osimene gol di Varaskelia nell'altro incontro terminato pochi minuti fa la Juventus ha vinto a Lecce per 1 a 0 con un gran gol del giovane Fagioli che era entrato subentrato in campo dopo di noi a Inonda gli ospiti di Concita De Gregorio e a David Parenzo di questa sera sono Pierferdinando Casini Peter Gomez Sara Menafra Fabio Rampelli Elisabetta Piccolotti Luciano Canfora e Walter Ricciardi ci fermiamo solo qualche istante Prima di chiudere una notizia di servizio obbligatoria da questa notte torna l'ora solare quindi dovremo mettere indietro le lancette di un'ora ecco qui questo è teoricamente l'ora in cui vanno portate indietro dalle 3 alle 2 e recupereremo quindi l'ora di sonno che avevamo perso molti mesi fa c'è un grande dibattito mantenere per tutto l'anno l'ora sola l'ora legale per il momento non succede torneremo all'ora legale il prossimo 26 di marzo mi fermo qui dopo di noi c'è in onda buon proseguimento di serata e arrivederci a domani grazie a tutti grazie a tutti